GIOACHINO ROSSINI Grande compositore attivo nella prima metà dell'Ottocento, conosciuto da tutti per il barbiere di Siviglia. L'avete riconosciuto? Ma certo, è GIOACHINO ROSSINI! È Pesaro a dare i Natali a Rossini nel 1792. Con un papà musicista e una mamma cantante, entrambi romagnoli, GIOACHINO non può che ereditare l'amore per la musica e il buon umore tipico di chi viene da quelle zone. Nonostante ciò, tollera malvolentieri il liceo musicale cui è iscritto, soprattutto per i metodi di insegnamento del docente, padre Mattei. Inizia in questi anni a emergere la sua vena comica, che si incarna né la cambiale di matrimonio, la sua prima opera buffa. Nel giro di pochi anni si consolida lo stile rossiniano, che negli anni evolve, passando dall'opera buffa, sfociando nel genere semiserio, per svilupparsi nell'opera seria negli anni della maturità artistica. Dal 1824 Rossini vive e lavora a Parigi. Qui, una volta cessata l'attività operistica, si dedica esclusivamente alla musica. Muore nella sua villa di Passy nel 1868. Ecco un breve excursus delle sue opere. Abbiamo Il barbiere di Siviglia, opera comica in due atti del 1816, composta in poco tempo e andata in scena per la prima volta al Teatro Argentina a Roma. Tra le opere semiserie, impossibile non citare la Gazzaladra dell'anno successivo. Infine, Mosè in Egitto è forse la più nota opera seria. Rossini è anche autore di musica sacra. Non dimentichiamo il suo bellissimo Stabat Mater e la Petite Messe Solenelle. Per ricordare il suo spirito gioviale Bonario, caliamo il sipario su Rossini con una sua famosa frase, che ci fa capire qual è la sua grande passione oltre alla musica. Il cibo. Dice infatti, mangiare, amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quell'opera comica che è la vita.